Odio le persone... No, 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 no. Ah, non è ripartito. Te devi essere già pronto per te. Io odio. Eh no, ma qui non riesco a capire. Ah, l'ho mutato. Ah, c'è la pazzetta, eh? Non dipensa da te, è proprio la mia pazzetta. Eeeh, bumbo. Ah, Dani, stai calmo, se non è senso. Non avere nessun amico, nessuno a cui rivolgo. Non ce la faccio, voglio. Tu non sai che... Ah, Dani, aspetta. Ok, ci siamo. Sono un amico, quando ti voglio... Eh, è difficile. Adesso è chi deve fare i due film polio. Posso considerarmi un filenzo? Credo di essere un filenzo, però. Eeeh, sono un giornalista. Ora... Eh, sì. Allora, io però, se clicco qui, è un punto diverso da qua. Perché Mac, stupido Mac, non mi va indietro. Guardatelo, guardatelo. Guarda, guarda, guarda. È stupido, questo è Mac. Guarda, 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 guarda Grazie a tutti.